Due piccoli turisti di 14 e 15 anni sono i protagonisti di uno spiacevole e quanto squalido episodio di bullismo. Il fatto è avvenuto sul lungomare di Francavilla la sera di Ferragosto. I ragazzi sono stati avvicinati da una vera e propria baby gang che hanno aggredito e rapinato con coltelli coetanei. Il bottino è di 60 euro, mentre una delle vittime ha riportato una bruciatura causata da una cicca di sigaretta. A denunciare proprio quest'ultimo episodio il padre di una delle vittime tramite la pagina Facebook Francavilla al mare tua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Gli aggressori pare essere già conosciuti alle forze dell'ordine per precedenti episodi simili. Bisogna ovviamente tenere alta l'attenzione, assolutamente intervenire. Ho dato la massima disponibilità anche per incontrare eventualmente i genitori e i ragazzi tramite i servizi sociali e anche con la mia presenza. Anche i genitori lasciano la loro indignazione anche sui social. Si è visto questo genitore che purtroppo ha voluto un po' farsi valere la propria volontà di proteggere il figlio. È stato un momento di sfogo assolutamente comprensibile. Anch'io sono una mamma e quindi comprendo benissimo la paura e i timori. Posso assicurare solo la massima attenzione e il collegamento diretto e quotidiano che c'è tra noi e i carabinieri che stanno svolgendo tutto ciò che è necessario per arrivare a individuare i responsabili. Lo ribadiamo ancora una volta che comunque è un episodio isolato e Francavilla resta una città sicura. Sì assolutamente mi sento di ribadirlo. È un episodio davvero isolato. Hanno questi ragazzi, hanno anche fatto altri episodi fondamentalmente non nei confronti delle persone ma di vandalismo nei confronti delle cose. Quindi sicuramente vanno fermati e vanno educati perché sono minori che vanno educati.